Siamo lodati Gesù e Maria. State per assistere, amici carissimi, a una nuova puntata di questo ciclo di catechesi. Prima dell'inizio del video vorrei rivolgere qualche piccolissima raccomandazione. Se possibile, ovviamente al termine della visione, mettete un like al video e se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se ritenete opportuno lasciate anche un commento al video ed eventualmente condividetelo. Queste piccole operazioni non costano nulla ma possano essere molto importanti per la diffusione ad altre anime di questo materiale. Fatelo. Ovviamente se ritenete utile e giovevole al bene delle anime, quanto state per ascoltare? Io vi benedica e la Santa Vergina che protegga. Carissimi amici, bentornati o benvenuti. Siamo a una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al mistero di Giuda. È la puntata numero 17. Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta amara ma costruttiva delle vicende di questo uomo inquietante. Sono quelle amare le lezioni che vengono da questo ciclo di catechesi. Sapete che delle volte funziona così alcune volte. Funziona che il cielo si serve di cose di per sé stesso non molto edificanti per formarci. Penso che molti ascoltatori saranno al corrente che per esempio molti insegnamenti il Signore ci rilascia o ci li ha lasciati attraverso quello strumento un po' fastidioso anche se molto costruttivo che sono per esempio alcuni esorcismi, alcune dichiarazioni fatte dal diavolo durante questi momenti sotto costrizione. Quindi io personalmente anche all'inizio quando vedevo queste cose dico ma vi dico quello che non si deve mai fare perché adesso non lo faccio più. Perché il Signore ci serve del diavolo che ci dà tante cose, no? Non ti dice mai questo, non ci fanno mai questi argomenti perché se il Signore lo fa allora le sue buone motivazioni. Quindi da parte nostra c'è semplicemente la necessità di adeguarsi a quello che il cielo decide e prendere. Certo ovviamente esercitando sempre un discernimento critico perché non possiamo prenderci qualunque cosa che ci arriva, però quello che passa il vaglio dell'attendibilità dobbiamo prenderlo, poi non prenderlo ci andiamo a rimettere, no? Ricordo sempre che Giuda, la conoscenza di Giuda e della sua figura è uno dei motivi, dei sette motivi per cui Gesù ha concesso quello che è un miracolo vivente che è l'opera di Maria Valtorta alla mistica italiana. Non è il primo, è il settimo. Ricordiamo sempre che il primo, ecco perché sono così importanti questi iscritti a mio avviso e qui parlo anche con la competenza che ho come sacerdote che peraltro ha approfondito a livello di studio la teologia dogmatica, il motivo principale per cui il Signore ha fatto questo regalo negli anni 40, evidentemente periodo storico non casuale, è la condanna del modernismo. Io ho dato quest'opera per dare gli strumenti per combattere quella maledetta, quel maledetto tarlo che è il modernismo. Sapete che il modernismo, la somma di tutte le eresie fu chiamata da San Pio X, lui cercò di stroncarla con la famosa Pascendi e con il giuramento antimodernista che tutti i preti hanno dovuto dire fino agli anni 60. Non poteva venire ordinato se non pronunciavi il giuramento antimodernista, poi ovviamente abolito. Negli anni 40 i modernisti stavano cercando di, non l'avevano mai smesso però, di riprendere le file, tutto quanto la cosiddetta nouvelle teologia andava a gonfie vele. L'ultimo tentativo, apparentemente forte ma in realtà un po' timido perché conteniva delle aperture per stroncare il modernismo, fu la famosa Umani Generis di Pio XII del 1950. Però, insieme a ribadire la condanna della nouvelle teologia, lì c'erano già delle, come al solito, pericolose piccole aperture, piccole concessioni, piccole. Per esempio dice sì, l'esegesi biblica sì, va fatta secondo i criteri tradizionali, però in certi casi può essere utile anche applicare qualcosa del metodo storico critico. Ecco qua, basta questo che abbiamo bello che è finito, perché in effetti se uno poi segue la storia, cioè si condanna il modernismo proprio nel 51, guarda caso, cominciano a essere, a farsi una cosa, ecco che ovviamente in ambiente modernista è assolutamente normale, ma in ambiente non modernista sarebbe stata una bestemmia a toccare il messare tradizionale. Nel 50 sono Umani Generis, nel 51 viene rifatta la viglia di Pasqua, poi nel 54 viene rifatta tutta la settimana santa, poi nel 62 viene ulteriormente riformato il messare, nel 65 compagna il primo messare con la traduzione a fronte e nel 69 arriva il messare di Paolo VI. Non so perché capite com'è, gli iscritti sono stati dati tra il 40 e il 50 circa, quindi casuale? No. Pio XII disse pubblicate l'opera così come sta, quindi espresse in privato giudizio favorevole, chi venne dopo di lui, non ha fatto neanche in tempo ad essere letto, tac, subito le riserve e i guai, postumi, ancora vivente la scrittrice tra l'altro perché è morta nel 61, quindi con tutti gli anni si è connessi. Ripeto, il contatto con queste cose per chi ci crede è assai edificante. Vado a leggere il testo perché se no abbiamo perso tempo per chi sta in diretta con le difficoltà tecniche, per chi lo sente indifferita con questa introduzione un po' corposa, però mi sembrava il caso, anche per ricollocare un po' il nostro momento di farla. Adesso andiamo a leggere il testo di oggi, che sono le curiosità di Giuda su Maria di Magda, la peccatrice. No? Ecco, tanto per fare qualche cosa, qualche altro guaio tra i molti, le confidenze e le curiosità di questo soggetto su Maria di Magda, la peccatrice. E quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Gesù con tutti i suoi, ormai sono in tredici più lui, sono sette per barca sul lago di Galilea. Gesù è nella barca di Pietro, la prima, insieme a Pietro, Andrea, Simone, Giuseppe e i due cugini. Nell'altra sono i due figli di Zebedeo con gli altri, ossia Scariota, Filippo, Tommaso, Natanaere e Matteo. Le barche veleggiano svelte, spinte da un vento fresco di borea, che appena increspa l'acqua in acque rughettine, appena sottolineate da un filo di spuma, che fa un tulle sull'azzurro di Turchese del bel lago Sereno. Vanno lasciandosi dietro due scie che alle basi si baciano confondendo le loro spine fume gioconde in un unico riso di acque, perché vanno quasi di conserva, quella di Pietro, appena più avanti, di un due metri. Da barca a barca, lontane pochi metri l'una dall'altra, si scambiano parole e commenti. Da questi arguisco che i Galilei illustrano e spiegano ai giudei i punti del lago, i loro commerci, le personalità che vi abitano, le distanze dal luogo di partenza e di arrivo, ossia Cafarno e Tiberiade. Le barche non pescano, sono solo adibite a trasporto delle persone. Gesù è seduto a prua e gode visibilmente della bellezza che lo circonda, del silenzio, di tutto quello azzurro puro di cielo e di acque, a cui fanno anello sponde verdi, disseminate di paesi tutti bianchi fra il verde. Si astrae dai discorsi dei discepoli, molti in avanti sulla prora, quasi sdraiato su un fascio di vele, a capo sovente chino su quello specchio di zaffiro che è il lago, come studiasse il fondale, e si interessasse di quanto vive in quelle acque limpidissime. Ma chissà a cosa pensa. Pietro lo interroga due volte per sapere se il sole, che ormai è alzato del tutto da oriente, prende in pieno la barca nel suo raggio, non ancora rovente ma già caldo, lo disturbi. Un'altra volta gli dice se vuole anche lui pane e cacio come gli altri, ma Gesù non vuole nulla, né tenda né pane, e Pietro lo lascia in pace. Un gruppetto di piccole barche da riporto, quasi scialuppe, ma tutte ricche di baldacchini, porpure di morbidi cuscini, taglia per attraverso la strada le barche dei pescatori. Suoni, risate, profumi passano con esse. Sono piene di belle donne, di codenti romani e palestinesi, ma più romani o perlomeno non palestinesi, perché qualcuno deve essere greco. Almeno così arguisco dalle parole di un giovane magro, snello, bruno, come un'oliva quasi matura, tutto azzimato in una corta veste rossa. Limitato da una pesante greca al fondo è tenuta alla vita da una cintura che ha un capolavoro di orafo. Dice «Ella di è bella, ma neppur l'olimpica mia patria, questo azzurro e questi fiori, e in vero non stupisce che le dèi l'abbiano abbandonata per più venire. Sfogliamo sulle dèi, non più greche ma giudei, i fiori, le rose e gli omaggi, e sparge sulle donne della sua barca i petali di splendide rose, e altra ne getta nella barca vicina. E risponde un romano «Sfoglia, sfoglia, greco, ma Venere è con me, io non sfoglio, io colgo le rose su questa bella bocca, è più dolce e si china a baciare sulla bocca aperta al riso Maria di Magdala, semi sdraiata sui cuscini e col capo biondo in grembo al romano. Ormai le barchette sono proprio contro le barche pesanti, sia per imperizia dei vocatori, sia per gioco di vento, per poco non cozzano. State attenti se vi preme la vita, urla Pietro in ferocito, mentre vira dando un colpo di barra per evitare il cozzo. Insulti di uomini e grida di spavento delle donne vanno da barca a barca. I romani insultano i Galilei dicendo scanzatevi cani di ebrei che siete. Pietro e gli altri Galilei non lasciano cadere l'insulto e Pietro specialmente rosso come un galletto ritto proprio sul bordo della barca che beccheggia fortemente con le mani sui fianchi risponde per le rime non risparmiando né romani né greci né ebrei né ebree anzi a questi dedica tutta una collana di appellativi onorifici che lascio nella penna. Qui possiamo fare una piccola sosta per farsi una risatina ogni tanto ci fa bene immaginarsi un po' Pietro che qui siamo agli inizi chiaramente della vita pubblica di Gesù quindi che sta ancora bello bello rozetto bello ruspante che gli hanno detto in sacca in asporta insomma chi lo sa che cosa gli ha detto insomma però appellativi onorifici che lascio nella penna speriamo che siano appellativi onorifici coloriti ecco ma non troppo spinti però Pietro era era così la bellezza dell'opera almeno per me magari qualcuno può anche non un piacere proprio conoscere vedere le personalità vive no? non soltanto di Gesù e di Maria che ovviamente sono di un fascino straordinario ma ma anche degli apostoli del gruppo apostolico anche la progressiva evoluzione anche delle figure quindi la la variegata composizione la diversa bellezza è è un grande dono del cielo per quanto mi riguarda vabbè comunque andiamo avanti il battipecco dura finché il groviglio di Chiglie di Remi non si è dipanato e ognuno va per la sua via Gesù non ha mai cambiato posizione è rimasto seduto assente senza sguardi né parole per le barche e i loro occupanti appoggiato su un gomito ha continuato a guardare la sponda lontana come nulla accadesse gli viene gettato anche un fiore non so da chi certo da una donna perché sento una risatina femminile accompagnare l'atto ma lui niente il fiore lo colpisce quasi sul volto e casca sulle tavole finendo sotto ai piedi del bollente Pietro quando le barchette stanno per allontanarsi vedo che la maddalena si alza in piedi e segue la traccia che le indicano compagni di vizio ossia punta i suoi occhi splendidi sul volto sereno e lontano di Gesù quanto lontano dal mondo quel volto di Simone interpella l'iscariota ma tu che sei giudeo come me rispondi ma quella bellissima bionda in grembo al romano quella che si è alzata in piedi poco fa non è la sorella di Lazzaro di Betania non so nulla io risponde asciutto Simon Cananeo sarebbe Simone Lozzerote sono tornato fra i vivi da poco e quella donna è giovane non mi vorrai dire che tu non conosci l'azzaro di Betania spero so bene che gli sei amico e ci sei stato anche col maestro e se ciò fosse ribatte Simone e posto che ciò è dico io tu devi conoscere anche la peccatrice che è sorella di Lazzaro la conoscono anche le tombe è dieci anni che fa parlare di sé ha incominciato ad essere leggera appena fu pupere ma da oltre quattro anni non può ignorare lo scandalo anche se eri nella valle dei morti ne parlo tutta Gerusalemme e Lazzaro si è rinchiuso allora a Betania ha fatto bene del resto nessuno avrebbe più messo piede nel suo splendido palazzo di Sionne dove anche lei andava e veniva intendo dire nessuno che fosse santo in campagna si sa e poi ormai è dappertutto fuorché a casa sua ora certo Magdala sarà in qualche nuovo amore non rispondi puoi smentirmi lo smentisco taccio ribatte sempre Simone lo zelote allora è lei anche tu l'hai riconosciuta l'ho vista bambina eppure allora la rivedo ora ma la riconosco impudicamente ripete le figie della madre sua una santa e allora perché quasi negavi che il tuo amico l'avesse per sorella le nostre piaghe e quelle di coloro che amiamo si cerca di tenere le coperte specie quando si è onesti vi fermo un attimo vi invito a considerare la saggezza proprio bella di Simone lo zelote questo a quanto pare era tanto brutto poverino perché alterato dal male da cui Gesù l'aveva guarito che era la lebra quindi tutti i buchi rimasti in faccia insomma Maria Valtorta dice descrivendoci è proprio un brutto uomo ma la bruttezza esteriore che delle volte purtroppo ha delle cause di vario genere non influisce sulla bellezza interiore soprattutto sulla santità e sulla salienza queste risposte sono veramente notevoli specie l'ultima le nostre piaghe quelle di coloro che amiamo si cerca di tenere le coperte specie quando sono onesti ricordate no? lì non la carità di San Paolo la carità tutto copre coprire non andare a scoprire le piaghe altrui come si dice anche nel parlare comune mettere il dito nella piaga no? non c'è niente di costruttivo né di edificante nel parlare di queste cose per non andare a fare chiacchiere critiche maldicenze che non dimentichiamo sono peccati sempre e in certe circostanze possono anche diventare peccati gravi quindi meglio proseguo Giuda ride verde dici bene Simone interviene Pietro e tu sei inonesto e tu l'avevi riconosciuta? continua sempre Giuda fastidioso questo ovviamente l'ho aggiunto io non c'è nel testo a Magdala a vendere il tuo pesce ci vai certo e chissà quante volte l'hai vista ragazzo dice Pietro sappi che quando si hanno le reni stanche di un onesto lavoro le femmine non fanno più voglia si ama solo il letto onesto della nostra sposa eh dice Giuda ma la roba bella piace a tutti almeno non fosse altro si guarda perché? dice Pietro per dire non è cibo per la tua mensa no sai dal lago e dal mestiere ho imparato diverse cose e una è questa che pesce d'acqua dolce e di fondale non è fatto per acqua salata e corso corticoso vuoi dire? voglio dire che ognuno deve stare al suo posto per non morire in malo modo ti faceva morire la maddalena? no ho cuoio duro ma me lo dici ti senti male tu forse? io? oh non l'ho neppure guardata dice Giuda bugiardo scommetto che ti sei eroso per non essere su questa prima barcha e averla più vicina avresti sopportato anche me per essere più vicino dice sempre Pietro tanto è vero quel che dico che mi onori della tua parola in grazia sua dopo tanti giorni di silenzio io ma se non sarei stato neppure visto guardavo continuamente il maestro lei risata e dice che non la guardava e com'è fatta a vedere dove guardava se non la guardavi? ridono tutti meno Giuda Gesù e lo zelote all'osservazione di Pietro che dice scusa se non la guardavi com'è fatto ad accorgerti che guardava soltanto Gesù Gesù pone termine alla discussione che ha mostrato di non udire troppo bello chiedendo a Pietro quella è Tiberiade? sì maestro ora faccio l'accostata attendi puoi metterti in quel seno Pietro vorrei parlare a voi soltanto misuro il fondo e te lo so dire Pietro che ha una lunga pertica è valento verso riva si può maestro vado ancora con tua sponda più che puoi c'è ombra e solitudine mi piace Pietro va fin sotto riva la terra è lontana al massimo un 15 metri ora toccherei ferma e voi venite a costo più che potete e pulite Gesù lascia il suo posto e viene a sedersi al centro della barca su una panchetta che va da sponda a sponda di fronte all'altra barca intorno gli altri della sua udite vi parrà che io mi astragga tra loro dai vostri discorsi e sia perciò maestro in fingardo che non sorveglia la propria scolaresca sappiate che l'anima mia non vi lascia un momento avete mai visto un medico che studia uno malato di un male ancora incerto e di contrastanti sintomi lo tiene d'occhio dopo averlo visitato lo sorveglia nel sonno nel sonno nella veglia al mattino e alla sera e nel silenzio e nel parlare perché tutto può essere sintomo e guida a decifrare il morbo nascosto ed indicare una cura lo stesso faccio io con voi vi tengo con fili invisibili ma sensibilissimi che si innestano in me e mi trasmettono le anche più lievi vibrazioni del vostro io vi lascio credere di essere liberi perché vi palesiate sempre più per quello che siete cosa che avviene quando uno scolaro o un maniaco si crede perso di vista dal sorvegliante voi siete un gruppo di persone ma formate un nucleo ossia una cosa sola perciò siete un complesso che si forma a ente e che va studiato nelle singole sue caratteristiche più o meno buone per formarlo amalgamarlo smussarlo accrescerlo nei lati poliedrici e farne un unico che di perfetto perciò io vi studio e studio su voi anche mentre voi dormite è bellissima questa uscita di nostro signore peraltro ogni volta che mi trovo a commentarla dico noi poveri preti qualche cosa di simile lo facciamo lo dico sempre anche alle pecorelle i miei parrocchiani bisogna far credere che si dorme quindi che uno non nota non sa niente non cosa però poi in realtà tante cose si sanno tante cose si vedono tante cose si osservano e quindi si capiscono molto bene in vista ordinariamente dell'azione appunto terapeutica spirituale da farsi se possibile cioè se te lo consentono le anime lo facete a Gesù e lo facciamo noi questo perché guardate che veramente è un barato l'uomo nel suo cuore è un abisso indirizzare bene un'anima curare bene un'anima è difficile è l'arte delle arti lo dico essendo diretto interessato dopo vent'anni di sacerdozio io tante volte mi chiedevo come si starà dall'altra parte come si starà è un posto di grande responsabilità perché è vero che c'è la grazia di Dio che ci aiuta tanto se uno certamente la costruisce però è vero che è un posto di grande responsabilità perché le anime sono veramente un mondo non soltanto i conglomerati sono veramente dei mondi particolari in mezzo alla razza umana è attestato di 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 giuda aveva un atteggiamento che non ingannava il maestro certamente ma poteva ingannare il prossimo nel senso che giuda era falso tuttavia oltre che falso era anche oltre modo superbo e quindi anche un pochino stupido come abbiamo visto e questo si nota la volontà non miglia ora il discorso di Gesù prosegue anticipando il tema evangelica del voi siete il sale della terra la luce del mondo che già tocca molti aspetti della formazione apostoli alcuni passaggi come seguenti alludono al fatto che è stato vissuto sul lago ecco alcuni passaggi grande sorte grande sorte la vostra ma anche grande tremendo impegno io vorrei che meditaste sempre questa vostra elezione e ancora vi scrutaste e ancora vi pesaste e se uno sente di essere atto ad essere fedele non voglio neppure dire se uno non si sente che peccatore impenitente dico solo se uno si sente atto ad essere solo un fedele ma non sente in sé il nervo di apostolo si ritiri il mondo perché amante di esso è tanto vasto bello sufficiente vario offre tutti i fiori e tutti i frutti atti al ventre e al senso io non offro che una cosa sola la santità ora questi amici vale ovviamente anzitutto per i candidati apostoli quando sento queste cose mi ricordano sempre le parole che mi diceva la mia santa mamma quando ero in seminario e una guarda che se ci ripensi torna a casa la casa è sempre aperta ti sei laureato c'è una vita davanti non devi fare il prete per forza io non mi offendo nessuno perché ricordati sempre che è meglio un bravo cristiano che un cattivo prete mi diceva sempre così verissimo e se uno non se la sente deve anche avere non se la sente non per ragioni di sentimento non ce la faccio affrontare una vita di sacrifici di cose non ce la faccio e vattene alla casa non te la ordina il medico non te la ordina nessuno simili considerazioni si possono fare per le forme di vita consacrata non te la senti statene a casa ma anche per la vita cristiana normale non te la senti da casa la vita cristiana è bella ma impegnativa sapete qual è il problema oggi grosso da un punto di vista pastorale no? io a volte veramente uno si stufa delle volte proprio uno oggi si proprio stufa perché c'è una situazione che non è più sostenibile io non so con che razza di faccia queste cose non a capitare queste cose cioè con che razza di faccia una persona che non è credente non ci crede per esempio gli chiedono di fare da patrino di battesimo o di cresima io lo so per certo gente che bestegna gente che non va mai in chiesa la domenica accettano io dico ma a questa gente che c'ha dentro il cervello che pensa non pensa evidentemente no? però noi dobbiamo pensare scusa come osi tu andare ad accettare cioè tu puoi dire ti ringrazio figlio amico mio fratello mia sorella mia ti ringrazio ma io non ci credo cioè nel senso faccio una vita indipendente autonoma come faccio a venire a dire rinuncio a satana che io satana ho le sue espressioni sulla sua bocca dalla mattina alla sera se bestemmia è uno così la bestia è curata una bocca per preferire bestemmi si ragiona l'ipo dell'apocalisse la bestemmia è proprio l'atto satanico è uno degli atti satanici per l'antonomasi anche perché è una delle cose più stupide che si possano fare il diavolo è il maestro di stupideria proprio laureato a Oxford questo è uno per cui vale il discorso questa qui pesatevi io mi sbaglierò temo che il nostro signore temo che il nostro signore al momento dell'esercizio particolare dica senti un po' ma tu come ti permetti di comparire al mio posto tu non metti mai piedi in chiesa ti presenti il giorno del battesimo X a far parlare di una madre ma con quale faccia ti sei presentato con che faccia eppure eppure altro che pesatevi meditate scrutatevi non senti in te la stoffa di apostolo ritirati ma non senti in te la stoffa del cristiano e non ci vi ma sii coerente sii coerente perché il nostro signore preferisce io vorrei raccontare una storia penso che si possa raccontare un'altra storia che mi raccontava sempre mia mamma suo nonno il nonno di mia mamma posso raccontarla perché raccontava a tutti quindi adesso sono tutti morti poi era l'altro era anarchico perseguitato dal regime fascista dopo a Vintotene un giorno sì e l'altro pure mia mamma era la prima nipote femmina romano de Roma quindi una famiglia romana de Roma di generazioni mia mamma la prima figlia femmina la prima nipote femmina scusate la luce dei suoi occhi Rossana era la luce dei suoi occhi a un certo punto mia mamma si sposa con mio papà in chiesa ovviamente sapete cosa ha fatto il nonno di mia mamma è andato da mia mamma gli ha detto Rossana tu sai quanto ti voglio bene io sono felicissima del tuo matrimonio e io verrò al pranzo al pranzo però non mi chiedere di venire in chiesa perché io non posso fare una cosa di questo genere nemmeno per amore tuo e non c'è andato in chiesa mia mamma ha sofferto le pene dell'inferno lo raccontava sempre per questo motivo ma non c'è andato volete sapere come è morto il mio bisnonno ha sperato il mio bisnonno questo stesso soggetto se sentiva qualcuno bestemmiare diventava una bimba lui perché diceva bestemmi sei credente e non ti vergogni a bestemmiare per te che sei credente tu bestemmi un essere trascendente uno che al tuo dire Gesù Cristo sarebbe Dio morto in croce lui è amato così tanto e che lo richambi con la bestemmia non ti vergogni sei un non credente allora sei uno stupido sei perché un non credente al presunto Dio come io sono non gli dà neanche la soddisfazione di infangarlo perché cosa dici mannaggia al nulla e peraltro è un gesto da grandissimi maleducati da scaricatori di porto e quindi non si fa il mio bisnonno ateo che non è andato al matrimonio della nipote perché non ci crede la nipote non mi ha sentito dire una bestemmia mai e qualunque richiesta di aiuto che mi veniva sa compagno qua compagno là c'è un mio figlio che sta male non c'è una lira lui dava in giro soldi a tutta Italia ed è morto povero questo raccontava sempre mia mamma era una persona benestante mia mamma raccontava che andava in giro con un cavallo fiammeggiante una carrozza per Roma quando ancora insomma era una cosa per pochi mamma raccontava come un sogno che era una bambina nonno veniva a prendere con sta carrozza con sta cavallo puro sangue lui era appassionato che si chiamava fiamma con sta fiamma bianca tutto nero con sta cosa bianca sulla fronte e si girava tutta Roma ma lui aiutava tutti una persona di questa integrità e di questa coerenza vedete le persone che sono così pur nel loro errore sono ben disposte verso l'ossione dei ragazzi perché come è morto mio nonno si ammala e viene ricoverato in un luogo X di Roma e lì c'era a fare il cappellano un frate mi raccontava mamma molto colto quindi estremamente estruito mio nonno certamente aveva un elevato il mio bisnonno tasso culturale e questo questo frate va a trovarlo e ci intesse un dialogo e comincia a parlare parlando di filosofia di Kant di sta roba qui eccetera per parlarci un po' quando mia mamma che voleva un bene dell'anima al nonno e ha saputo che andava sto frate dal suo nonno gli è andato subito a parlare dice guardi padre quasi non sta tanto male mi raccomando guardi vedo se può fare qualcosa se riesce meno male che ci parla un po' però almeno vedo un attimo se riesce a contattare il Vaticano a parlare perché mio bisnonno era scomunicato perché una volta i comunisti e gli estremisti di sinistra c'era una scomunica una volta adesso gli faccio togliere almeno una scomunica e il frate raccontare a mia mamma dice sempre scusi scusi ma di chi mi sta parlando ah lei mi sta parlando di quel santo uomo di Cesare di Cesare Cicarelli ah ma non si preoccupi non si preoccupi si si la scomunica ci penso io ma non si preoccupi insomma farvela breve dopo un po' di dialoghi filosofici il mio bisnonno ha chiesto i sacramenti si è confessato come Dio comanda si è comunicato come Dio comanda preso il viatico dello santo ed è morto punto come se non bastasse dopo la morte è andato in sogno mia mamma e nel sogno lei raccontava tesoro mio nonno tutto arrabbiato che stava soffrendo e mi dava un sacco di botte e mi dice Rossano tu non mi vuoi bene come stai sempre a dire mi vuoi tanto bene tu non mi vuoi bene perché non mi fai un po' di regali io sto male credo che mamma adesso non mi ricordi i dettagli raccontò sta cosa non so se ho qualche preda o qualche professore e quello gli dice beh forse suo nonno ha bisogno di qualche messa che insomma certamente si è morto così il signor l'ha perdonato però sicuramente il paradiso non c'è nato insomma gli faccia dire qualche messa e credo che mamma gli faccia dire le messe gregoriane insomma finita sta cosa mio nonno il mio bisnonno scusate è sempre lui le appare nuovamente in sogno tutto sorridente vestito a festa e dice grazie Rossana e scompare la storia delle persone coerenti una persona che non se la sente quando sta in seminario io ho conosciuto dei seminaristi che se ne sono andati senza che gli avessero detto vattene e non perché siano trovati la fidanzatina le cose ma perché sono messi in attima a pensare sono messi in attima a pensare non me la sento se non te la senti non te la senti meno peggio se una persona fa questo e va ad affrontare una vita come dire onesta santa e distesa nel mondo meno peggio ma se c'è la vocazione certamente non è una cosa bella se c'è la vocazione e la frustrata non va bene non va non è l'ideale ma pur seppure c'è molta gente che diventa un pessimo prete la vocazione ce l'aveva capite cioè queste cose dobbiamo interiorizzarle bene io a quanto ho potuto imparare anche a quanto appare nell'opera Dio vuole la sincerità del cuore vuoi fare la patrina della battesima decresima vabbè mi ha chiesto questa cosa vabbè mi vuoi fare una bella confessione almeno da oggi in poi faccio il proposito di emendarmi di riprendere un po' di vita cristiana oh vabbè ma questo lo devi fare questo qui o tutte le pagliacciate dei matrimoni che vanno facendo adesso sono tutte i matrimoni sono tutte pagliacciate tutte quante quasi tutte quasi tutte non se qualcuno si arrabbia si arrabbiasse pure ma che pagliacciata è dei due che hanno convissuto pena vita e poi si vanno a sposa in chiesa senza fare nessun gesto di penitenza né interiore né esteriore matrimoni al comune e poi in chiesa oppure niente convivenze ma hanno fatto carne da porco in perpetua senza fare nessun segno di penitenza i matrimoni attenzione sono tutti validi dopo vanno a fare gli annullamenti perché perché hanno un matrimonio così è costruito sulla sabbia quindi non avrà benedizione se qualcuno si scandalizza di queste parole si vada a leggere quello che disse la madonna a sua giacinta a fatima per controllare facciamo spot pubblicitario i miei libri sacramentum magnum e pillole di catecher si troverà tutti i dettagli su questi particolari ok quindi il matrimonio andrà a schifio quindi faranno l'annullamento perché l'annullamento perché non ero consapevole per questo con l'altro con la sinistra ma il matrimonio non è nullo perché il matrimonio è valido però è una pagliacciata è una presa in giro questi si pensano che il nostro signore tu hai fatto il contrario di quello che lui dice io ho sempre la tentazione che ho lì in libreria il penitenziale di San Colombano Abate di andare a prendere che cosa facevano nell'ottavo secolo avanti Cristo a una persona che aveva fatto il delitto di fornicazione la penitenza che doveva fare per una fornicazione semplice sta scritto lì non me lo sono inventato io quindi c'è stato un periodo della storia della chiesa dove le cose sono state fatte perché la fornicazione è un peccato gravissimo non è come me sono mangiato un cioccolatino di più tu fornicatore allo stato buro pubblico concubino che scandalizzi il prossimo perché la convivenza è un pubblico scandalo o ti vai a sposare al comune cioè tu che sei un battezzato cioè tu vai a sottoscrivere un patto davanti agli uomini quando Gesù ha manifestato la volontà che questo sia un vincolo sacro da sigerare davanti a Dio ho sbagliato mi pento ma se ti penti mi va a Dio ma se ti penti lo devi dimostrare la coppietta che ha avuto rapporti prematrimoniali smette si confessa fa penitenza e fino al matrimonio sono due angioletti la coppietta di conviventi se non hanno i figli prima del matrimonio fanno le valigie e tornano a casa perché devono fare un segno anche esterno di pentimento per quelli che hanno non edificato quello che ti è esempio c'hanno i figli abbiamo già due figli che fai facciamo le pagliacciate se ne va ognuno a casa sua no ma per un certo periodo congruo di tempo si dorme ognuno in camera propria si dice rosario insieme e magari volontariamente lo fai tu informi gli invitati guardate che noi ci sposiamo in chiesa abbiamo sbagliato ma abbiamo personalmente fatto il nostro percorso penitenziale non l'abbiamo reso pubblico perché abbiamo i bambini perché abbiamo fatto male quindi sappiate che il signore speriamo che ci benedica perché abbiamo fatto un percorso benissimo e così vale tutto ma senza percorso senza percorso così io proprio ancora volete rimanere con me vado veloce che andiamo verso il termine non vi sentite di farlo o non vi guardate stupiti o addolorati mi sentirete fare ancora molte volte questa domanda e quando la sentirete pensate che il mio cuore nel farla piange perché è ferito dalla vostra soldità la vocazione esaminatevi allora e poi giudicate con onestà e sincerità e decidete per non essere dei reprobi decidete dite maestro amici io conosco di non essere fatto per questa via vi do bacio di commiato e vi dico pregate per me meglio così che tradire meglio così scusate ma chi stava parlando Gesù stava parlando a giuda giuda è ha fatto la fine di giuda che tutti sappiamo perché proprio l'ha voluta fare l'ha voluta con tutte le forze possibili e il signore nella misura in cui poteva quindi nel rispetto della sua libertà l'ha aiutato fino alla fine quante volte potremo quante volte giuda gli dice ah io non vado bene e allora cacciami Gesù dice io non ti caccio tu te ne vai io non caccio nessuno sei tu che devi dire me ne vado tu lo devi dire ti dice ah sei fatto così lo sai che io sono così mi devi convertire mi devi cambiare il cuore io ti devo cambiare il cuore io ti aiuto se tu vuoi a cambiarti il cuore ma non te lo cambio io totalmente così dove sarebbe la libertà dell'uomo dove sarebbe il merito chiudo con l'ultimo capoverso che dite chi tradire chi me la mia causa ossia la causa di Dio perché io sono uno col padre e voi si vi tradireste l'anima vi tradireste dando la satana come lì è che ho fatto questa mattina oggi c'era il discorso dei vignaioli omicidi nel Vangelo del Giorno che c'è la vigna è la casa di Israele quindi c'è la vigna con i parisi eccetera eccetera ma la vigna è anche la nostra anima e chi è che deve prendersi cura della nostra anima della mia e della tua anima chi è che la deve coltivare come si coltiva una vigna faticandoci lavorandoci sopra tu e io tu con la tua e io con la mia tradire Gesù rinnegare Gesù vuol dire tradire se stessi vuol dire consegnare l'anima a Satana l'anima vi tradireste dandola a Satana c'hanno tutti paura sapete un po' tutti qualcuno c'ha paura quando vede l'esorcista di William Fredklin o l'esorcismo di Emily Rose o tutte queste cose qui che sono fatti storici successi andano il diavolo forse esiste i posseduti abbi paura dell'anima in possesso di Satana per quello basta dire una bestemmia o non andare a messa la domenica non ci vuole un granché perché il diavolo si prenda la nostra anima perché faccia la possessione ci vogliono un sacco di cose malefici gli impicci gli imbrogli le messe nere le salute spiritiche tutte le cause strane per cui si diventa posseduti ah ma per dargli l'anima ci vuole niente ci vuole volete rimanere ebrei ed io non vi forzo a cambiare ma non tradite non tradite la vostra anima il Cristo è Dio io vi giuro che né io né i fedeli a me vi criticheranno né vi additeranno allo sprezzo delle turbe fedeli poco fa un vostro fratello ha detto una grande parola vedete come Gesù adesso loda l'uscita di Simone Lozelota le nostre piaghe e quelle di coloro che amiamo si cerca di tenerle nascoste e colui che si separerebbe sarebbe una piaga una cancrema che nata nel nostro organismo apostolico si staccherebbe per cancrena completa lasciando un segno doloroso che con ogni cura terreno nascosto un brano questo certamente dà il sapore un pochino amaro vi invito un attimo anche a considerare la lussuria di Giuda no? se quello che che non ti puoi prendere almeno lo guardi no? tutte quante le informazioni e le cose che ti chiede facciamo facciamo però attenzione anche a questo discorso conclusivo di Gesù con cui lo esorta a pensarci bene è il primo di una lunga serie di esortazioni che vedremo possiamo mettere punto mettere punto e ci aggiorniamo alla prossima puntata più benedica e la santa vergine sempre protegga attenzione